Sveglia, sveglia, dobbiamo andare ad Eurovideosound contest, ricorda di Eurovideosound contest, sei sordo? Pronto? Vieni alzati, dobbiamo andare, su, uomiti! Mi sono da 5 minuti... Uomiti, uomiti, eh oh! Ti vedo, dico, mi fa piacere questa cosa, volevo dirti che dobbiamo partire, vai alla radio a prepararti, cazzare, pronto! Sarà una settimana lunghissima, dai su, scattare! Mara Maionchi e Gabriele Corsi conducono Eurovision Song Contest, il 9 e l'11 maggio, le semifinali sul Rai 2 e il 13, la finale sul Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.